Nonostante gli appelli fatti dagli amministratori, non è stata concessa nessuna proroga per la gestione dell'emergenza post-sisma del centro Italia. La Premier Meloni ha nominato Guido Castelli come nuovo commissario per la ricostruzione. Il senatore di Fratelli d'Italia, ex sindaco di Ascoli ed ex assessore al bilancio della regione Marche, prende così il posto di Giovanni Legnini. Un cambio al vertice che ha suscitato non poche polemiche, visto le richieste inoltrate dai territori del cratere sismico al governo per la riconferma di Legnini. La richiesta veniva dai sindaci, dai territori, dai comuni, dai comitati, anche dai esponenti ecclesiastici. Tutta la comunità del cratere sismico aveva espresso fortemente la volontà di confermare Giovanni Legnini per il lavoro straordinario che è stato svolto nel corso di questi anni e per la necessità assolutamente di dare continuità rispetto ad un lavoro che ha ridato speranza, fiducia a territori che l'avevano persa. Ecco perché il lavoro di Legnini deve essere un patrimonio straordinario consegnato al nuovo commissario al quale vanno gli auguri da parte mia, da parte di tutti i sindaci del territorio, già rivolto personalmente a Guido Castelli, gli auguri di buon lavoro, ma che si vada assolutamente in continuità con l'attività che è stata svolta. Dunque per il sindaco di Teramo, nonché presidente Ancio Abruzzo d'Alberto, la cosa più importante ora è quella di proseguire con l'imponente lavoro portato avanti in quasi tre anni di mandato da Giovanni Legnini. La strada è tracciata, la linea è tracciata grazie al cantiere normativo, agli strumenti che Giovanni Legnini ha costruito, i cantieri che sono stati aperti, altri pronti a partire e quindi dobbiamo andare avanti in questa direzione. Certo, il metodo utilizzato, come ho avuto modo di dire anche ieri, è stato fortemente discutibile, tanto senza un confronto, senza tenere neppure in considerazione le richieste dei territori e tempi così stretti, nel senso che non è stato preparato questo tipo di lavoro, anche nella questione del rispetto istituzionale per l'attività svolta. E grazie ancora con tutto il cuore a chi ha consegnato al futuro del territorio del cratere sismico una speranza di rinascita che prima non c'era. Giovanni Legnini.